Namaste, ben trovati. La pratica di stasera è una pratica dedicata alla pace e si chiama la ricerca della pace interiore. Mi sembra una grande frase, un grande impegno, una ricerca della pratica interiore con una pratica di yoga. Però spero che questo possa dare il là ad uno spunto rivolto ad un ascolto veramente profondo. Una domanda prima di cominciare. Chi fra noi tende a riempirsi all'agenda senza lasciare neanche un buchino? Chi ha difficoltà anche magari entrando in un periodo vacanziero, un periodo di pausa dove non abbiamo più gli impegni di tutti i giorni? Chi ci mette circa due o tre giorni per abituarsi? Ok, ottimo. Allora la pratica di stasera farà per voi. Di recente, negli ultimi mesi, questo tema è un tema che sto affrontando, con cui sto lavorando personalmente in maniera molto seria. Dopo l'ultimo Full Immersion con Shiva Rea, dove lei presenta queste tre pratiche che chiama Rasa Vignasa, è emerso che effettivamente quello di cui ho bisogno, come ne ho bisogno io, ne hanno bisogno tantissime altre persone, non è una pratica di fuoco, una pratica che a volte è quella che ci chiama più spesso sul tappetino, è quella che ci esalta, è quella che ci spinge a praticare, no? Là dove studiamo, là dove sentiamo che abbiamo lavorato alla fine della pratica, che è quello che la mia natura mi porterebbe più spesso in quella direzione. In realtà alla fine di questo fantastico weekend trascorso con lei ho capito che invece il mio lavoro doveva essere slow down, doveva essere rallentare e sentire e scoprire che muoversi lentamente e concedersi proprio il lusso, che è un lusso mentale poi, di praticare meno posture, rimanere nelle posture, ascoltarsi, apre delle porte incredibilmente fantastiche che possono portarci verso un cammino di profondo ascolto e sono estremamente healing, quindi portano questa qualità di guarigione che spero possa arrivare a tutti voi. Quindi detto questo cominciamo proprio in shavasana, rilassamento, ok?